Non sono troppo tentato dallo spendere 1.400 in un tempio, principalmente perché potrei aver bisogno di quei soldi, soprattutto per i mecenari. Quindi direi di evitare. A questo punto diamo un'occhiata alla diplomazia. Vediamo se c'è qualcosa che è cambiata, ma sembrerebbe di no. Giusto, soltanto sembrerebbe che gli odrisi non sono più forti rispetto ai tribali, quindi hanno perso contro i macedoni o qualcosa del genere. Anche perché i tribali non sono in guerra con nient'altro, quindi certamente possono concentrarsi sui nostri poveri alleati. Non sono ancora alleati, ma quasi. Per far salire di livello il nostro agente, cosa che probabilmente devo fare prima, ma non l'ho, come sono accorto, non c'ho neanche guardato. Sottolineiamo qua in alto e mettiamo servizi segreti, così almeno prende un po' di esperienza. Dobbiamo anche ricoltare un dignitario, in teoria. 1.000 per un dignitario probabilmente è meglio che 1.400 per un templio, al momento. Completeremo anche una quest, quindi direi che può essere una buona idea. Direi di fare questo. Vediamo un attimo anche gli altri, però. Sì, e lo otteniamo all'interno dell'esercito. Beh, no, abbiamo già il campione, quindi quello non lo possiamo fare. Dovremmo fare questo. Vabbè, sì. Non è che il primo di quella quest fosse particolarmente interessante. Allora. Malva ora non è protetta. ma non possiamo farci molto. Dobbiamo prima eliminare a Kink. Come se non me l'aspettassi. problema è che hanno un accesso a Malva, quindi dovrai metterci qualcosa a Malva, sinceramente. breuci contro i dalmati. Non so cosa sia. Titoli inaffidabili, le fabbricazioni tutte ai dalmati. No, qua, ok, qua non possono comunque entrarci, quindi devono affrontare questo e francamente la vedo abbastanza dura per loro. A meno che non decida di muoversi fuori dall'area della città. cosa migliore... Cioè, se noi lo mettiamo... ma tanto non si muovono, quindi è inutile cercare di fare un'imboscata. Mettiamolo direttamente qui. Così il prossimo turno posso attaccare direttamente a Kink. E in questo turno comunque... si ripristinano le unità. come posso aiutarti? Vedo cosa è meglio per i nostri cittadini, tutti i guerrieri. Altro che posso fare? Penso proprio di no, quindi finiamo il turno. No, ok. Petroforus... chi diavolo è Petroforus? Non è lui, allora è la nostra spia. Come posso aiutarti? Gli diamo... spia. Non me lo aspettavo? Dubito che finirà bene per loro. Rischio però di perdere qualche unità, questo è poco ma sicuro. Allora, loro hanno... Un, due, tre, quattro, cinque, sei fanterie. Noi ne avremo decisamente di più, però... sono abbastanza sfasciate, quindi... non credo di potermi permettere di fare due file, in questo caso. Ho però ancora degli alcieri mercenari, cosa che probabilmente... non so... Probabilmente non li ho tolti, è lì l'ho sbagliato. Ho due cavallerie, ma... dubito di poterci fare molto. La nostra schermaglia è più forte. Poi mi attaccano loro, quindi... l'opzione è migliore. Voglio tenere in centro queste... Sì, però sono tutte sfasciate. cercando di fare un... una sorta di bilanciamento. Più o meno, forse ci sono anche riuscito. Parliamoci, se facciamo finta di niente, va. Abbiamo le due cavallerie, che probabilmente metteremo qui... se riusciamo ad utilizzarle in qualche modo. Non voglio utilizzarle perchè queste qua sono... cioè, se perdo queste non succede niente. Se perdo queste... per proprio reclutarle ci vuole un po', quindi... preferirei cercare di tenermele. Verocizziamo. Arrivano su in quella... Hanno avanti tre fanterie. Sì, loro fanno sempre due file, apparentemente. Che adesso mi dice che sono in svantaggio. Prima ero in vantaggio. Hanno dei cavalieri nobili. Cosa che non mi piace, ovviamente, ma... Abbiamo qualche... Che fa qualche unità che... mi dice che sono in vantaggio contro i cavalieri nobili. Vengono su storti. Vengono su storti. Qua facciamo... No, no, facciamo così. Teniamo il generale indietro, però. Ora che ci penso, perchè almeno può proteggere... I miei schermagliatori. I miei schermagliatori. I miei schermagliatori. In generale è molto avanti, no? Vabbè. Preferivo che non venisse avanti, però. Allora, dunque, voi due venite qua. Te vieni ancora avanti un po'. E poi carichi qua dietro. Voi due tirate su questo. Il mio arciere tira su i cavalieri nobili. Te tiri su questo. E te tiri su questo. Come cavolo? Eh sì, i fromboglieri stanno tirando tutti su quello. Facciamo così. Calma. Allora, secondo fiato su questo. Paura. Intimorisci. Crido di guerra. No, qua devo caricare la sopra. Scermagliatori pronti. Perdo troppi uomini. Purtroppo il morale di questa unità non è affatto buono. Tirate su. E' stato enorme. No, qua. I perdi. I perdi. E' stato un po' di straitone. Sotto due tagliata. E' stato di assenso. Altri. Tanti aiutati. Tanti al fattore. Tanti aiutati. E' stato un po' di rilumore. E' stato di rilumore. E' stato un po' di rilumore. E' stato di ruolo. Ok, i loro generali stanno andando in fuga, quindi questi qua possono anche tirare, facciamo così, in modo se non altro da farli un po' scappare. Qua non so come mi accaverò, francamente, perché adesso... beh, però ho delle cavallerie, tutto sommato. Questo capo carica su questo. Ok, dovrebbe essere praticamente finita, quindi questi qua li comincio a far correre giù, fondamentalmente. Spero di non perdere niente. Però, non lo so. In ogni caso riesco a prendere la città. Riesco di perdere quelle. Beh, due cariche, anche cavalleria molto leggera come gli accieri, credo che dovrebbero tirarli giù. Facciamo... sì, ok. Ok, carichiamo questi. Velocizziamo. C'è ancora una unità, sì, che sta inseguendo questi. Vabbè. Termina la battaglia. Spero di... ok, non ho perso nulla. Abbiamo avuto però buone uccisioni da questa unità, devo dire. E considerato che l'ho pagata quanto? Quanto costa? 350, credo. La cosa è piuttosto positiva. Il problema fondamentale è che sono unità di supporto, non sono unità che possono ottenere una linea. E quindi... Al momento il mio esercito non è esattamente il massimo. O quanto meno le possibilità che ho non sono particolarmente buone. A Kink, fra l'altro, era la capitale forse. No, non era la capitale. La capitale l'avevo già presa. Spero comunque però che ci sia all'interno una... delle baracche, diciamo, delle... delle caserme. In modo da... quanto meno reclutare qualcosa. Questi qua saranno... no, non ho perso niente un bel cavolo. Questi due qua probabilmente... Forse anche questo qua. Ero convinto... cioè, aspettavo l'assegno rosso ma apparentemente non c'è. Ti sei bloccato? Dai. Oh, ok. Sì, infatti ho perso tre... Guerrieri con falce. M'ha girato anche la visuale. Commerciante estero. Questa qua è un'ottima possibilità in realtà. No, me la soia me la ha girata soltanto nel cambio turno. Allora. Mercante. Però questa è una bizzarra tintura che produce un intenso colore. Consentiamogli di commerciare. E adesso... Direi di... Vabbè... Facciamo questo intanto che mi ricordo. Prendiamo la cavalleria il prima possibile. A parte che anche... Questo qua è comunque la linea che ci permette poi di potenziare la fanteria. Quindi... Prendiamo... E prendiamo questo. Prendiamo qui. Prendiamo... Niente. Attacchiamo perché non ho voglia di combatterla questa, quindi... La madonna! Cos'è che c'hanno? Vabbè, salviamo. Questi qua quali sono? No, 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 neanche questi qua. Anche se farò una cosa. Non lascerò praticamente la battaglia in questa parte. Praticamente... Sto pensando. No, mi conviene fermarla qui. Cioè, entro all'interno. Dovrei poter salvare all'interno delle battaglie, credo. No. Quindi... Farò una cosa un po'... Beh, escono loro, quindi comunque non dovrei dover attaccare io. Niente, finirò qui la parte, poi... Vado avanti con la battaglia, poi per conto mio, e poi la... Nella prossima parte ci sarà la fine, ci sarà la battaglia, insomma. Per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. E al prossimo video. Ciao!